Salve! Nella lezione di oggi tratteremo il Pail Tidim. Tidim in coreano significa passo, dunque oggi impareremo i passi del Pail Tidim. Il primo è il One Step, il secondo Two Step, il terzo Jeang Go-rym e infine Katsi Go-rym. Faremo questi quattro, alzate la gonna verso i fianchi, qui sopra, e tenete le braccia a triangolo. La danza coreana ha molte particolarità, tra cui c'è il Tidim. Il Pail Tidim è diviso in tre fasi, tallone, palmo e punta. Talone, palmo e punta. Sinistra, talone, palmo, punta. Talone, palmo, punta. Tre fasi in questo modo. Perciò, quando dico One Step, bisogna subito procedere poggiando il tallone, così. Lo stesso vale anche per tornare indietro, così. Io tengo la gonna per mostrarvi i passi, proprio sopra. One Step, uno, due, tre. Vedete i miei passi? I piedi non devono essere né troppo aperti né chiusi. Averti leggermente a 45 gradi. Uno, due, di nuovo, uno, due. Per il Two Step, letteralmente al destro segue il destro. Al sinistro, al sinistro. Destro, destro. Sinistro, sinistro. Anche indietro. Destro, destro. Sinistro, sinistro. Ma quando andiamo indietro, invertiamo l'ordine delle tre fasi. Punta, palmo e tallone. Riproviamo. Destra, destra. Sinistra, sinistra. Destra, destra. Sinistra, sinistra. Le ginocchia sempre attaccate. Non le staccate, mi raccomando. Il terzo passo è jangore. Un passo corto e veloce. Veloce in avanti e veloce indietro. Vado attenzione a non inciampare e non stendete le ginocchia o sembrerete dei robot. Quindi piegate leggermente e andiamo. Uguale indietro. Visto? Attaccate le ginocchia. Avanti e indietro. Con le ginocchia piegate. le ginocchia. Infine abbiamo il kachikoren. Kachi significa gaza. In Corea si dice che se arriva la gaza, arrivi una persona cara. Passo destro, seguito subito dal sinistro. Io vado in diagonale per mostrarvelo bene. Al destro, subito al sinistro. Destro, subito al sinistro. Sesto con lo sinistro. Destra, attacchiamo. Così. Vedete? Alzo la gonna. Destra, attacco. E così via. Attacco. Sinistra. Non aprite le ginocchia. Stessa direzione. Così, velocemente. Adesso ripassiamo. One step, quattro volte avanti e quattro indietro. Stesso per il two step. Anche il jangoren, quattro volte avanti e indietro. E il kachikoren, quattro volte avanti e quattro volte indietro. Dal one step. 그대로. 하나. A, due. Ul, se. En, de, et. Diro volte avanti e indietro. Indietro. A, due. Ul, se. En, de, et. En, de, et. Di nuovo. A, due. Ul, se. En, de, et. Hanna. A, due. Ul, se. Et. Tu step. Tu step. Wembali. 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 Diro. Hanna. A, due. Se. En, de, et. Hanna. 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 One step, one step, one step, one step, one step, two step, two step, two step, two step, Diro al paio? Andiamo indietro. Abbiamo imparato i passi. Il Sangor è difficile perché bisogna camminare continuamente con le ginocchia piegate. Quindi esercitate più volte. Se imparate questi passi vi ritorneranno utili anche quando faremo altre danze. Quindi esercitatevi e noi ci vediamo alla prossima lezione. La prossima volta faremo i tulgi e altri movimenti. Noi ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci. Ciao. 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 Ciao.